Ciao a tutti, oggi parliamo di assicurazioni dei cani e dei gatti, assicurazione medica dei cani e dei gatti. Come sapete, se è la prima volta che arrivate su questo canale non lo potete sapere, ma chi mi segue lo sa, ho già fatto diversi video sulle assicurazioni dei cani e dei gatti. Le trovate ovviamente, ve ne metto uno qua sopra e poi vi metterò due video a fine video, in modo tale che potete già trovarli. Altrimenti andate sul mio canale e cercate assicurazione del cane e dei gatti e vi usciranno i video. In quei video io sono un fautore, sono un sostenitore dello strumento assicurativo, perché credo che la medicina veterinaria abbia dei costi importanti, molto elevati, perché chiaramente le attrezzature sono molto costose e quindi fondamentalmente fare un servizio di medicina veterinaria di buon livello, se non ottimo, ha dei costi importanti per noi medici veterinari, che chiaramente poi ricadono sul proprietario e quindi sul paziente. Il proprietario chiaramente, anche lui, la spesa medica veterinaria incide sul suo budget familiare e quindi lo strumento assicurativo secondo me dovrebbe essere veramente la soluzione dei costi esagerati della medicina. Però, nonostante io sia un sostenitore, in questo video voglio fare delle critiche alle compagnie assicurative, perché fondamentalmente mi accorgo ogni giorno che probabilmente da parte delle compagnie assicurative non c'è un'idea chiara del futuro di questi prodotti. Io sono sempre stato molto, come posso dire, come posso definirmi, scettico sui costi di questi prodotti assicurativi, perché secondo me sono prodotti che vendono le compagnie assicurative ai proprietari di cane e gatto con prezzi, secondo me, molto bassi. È chiaro che il proprietario si trova magari 200-300 euro di spesa a anno e pensa comunque che sono elevati, però vi posso assicurare che 200-300 euro è un prezzo molto troppo basso per riuscire a sostenere, diciamo, uno strumento che poi venga utilizzato e non uno strumento che poi nel momento del bisogno io non posso utilizzare perché poi ho una serie di esclusioni che mi impediscono di utilizzarlo. E quindi fondamentalmente il discorso è abbastanza chiaro. Creare uno strumento che poi sia inutilizzabile, anche se lo pago poco, secondo me non ha senso. Ha più senso essere onesti con il proprio cliente e dire guardate, voi avete bisogno di questo strumento, perché nel momento di bisogno non potete rischiare di trovarvi costi da 3-4 mila euro, però non costa 200 euro. In modo tale che il proprietario abbia le idee chiare su quello che è il costo anche della medicina veterinaria. E l'assicurazione secondo me, i proprietari magari non ce l'hanno e poi chiaramente lo scoprono, ma le assicurazioni stesse non ce l'hanno e quindi in Italia sono usciti con dei prodotti che secondo me non potevano durare. E infatti negli ultimi periodi molte compagnie assicurative stanno un po' tirando i freni e quindi quel tipo di prodotto non ve lo do più o a quel prezzo o con quelle caratteristiche perché ci rendiamo conto che fondamentalmente ci stiamo smenando, non riusciamo a coprire poi le spese che poi il cane e il gatto ha la necessità. E quindi stanno riducendo o aumentando le esclusioni per cui non vi coprono. Quindi tu paghi tutto, ma però magari non c'è dentro questo, non c'è dentro questo, non c'è dentro quell'altro. E questo chiaramente rende allo strumento ancora meno utilizzabile e quindi più inutile. Quindi io sono dell'idea che bisogna essere onesti. Se ci sono dei costi, un'assicurazione non può costare poco, però bisogna creare un prodotto che io pago anche tanto, ma nel momento del bisogno mi copre tutto o quasi tutto. Un po' quello che succede con l'assicurazione della macchina. Se ci pensate, l'assicurazione della macchina hanno creato delle assicurazioni in modo tale che c'è una buona copertura, ok? Quindi uno fa un incidente e non ha la preoccupazione se paga regolarmente l'assicurazione. Nel cane e nel gatto invece tu fai l'assicurazione e poi devi pregare che non gli capi quella patologia o quell'altra perché non c'è dentro. E quindi è uno strumento che il proprietario giustamente dice perché devo pagarlo tanto se poi non c'è dentro quasi nulla. E quindi bisogna che le assicurazioni un po' si mettano l'anima in pace e decidano di fare dei prodotti anche onerosi, ma che abbiano dentro quasi tutto. In più c'è tutto il discorso dell'età. Io capisco che le assicurazioni non siano delle onlus, però anche lì se tu mi crei un prodotto che dopo i dieci anni non copri, non lo assicuri in un cane, posso anche tra virgolette un po' capirlo. Mediamente un cane vive dai 14 ai 16 anni e quindi tu dici dopo gli 11 anni è dove ha più necessità, quindi io faccio un po' questo tipo di giochetto, però per i primi dieci anni ti capita qualsiasi cosa, che sia una frattura, che sia un incidente. Io ci sono, però poi dopo quando comincia a esserci un po' la medicina, insomma un po' più complessa, quindi analisi del sangue da controllare, se sta bene, ecografie, endoscopie, asportazioni di neoplasie, lì magari capisco che lì non riesco magari a coprire, quindi cerco di giocarmela così. So che anche in umana funziona così, quindi mi immagino che anche nel cane funziona così. Ok nel cane, ma nel gatto i dieci anni non sono fattibili, perché un gatto mediamente abbiamo una vita media che supera i 15-16, abbiamo gatti che arrivano a 20 anni, quindi mettere un limite come i dieci anni a un gatto secondo me è troppo, vuol dire non avere idea di che cosa si sta, in che campo ci si sta mettendo e questa è un po' l'idea che mi sono fatto delle assicurazioni sanitarie, delle compagnie assicurative che si occupano delle assicurazioni sanitarie dei cani e gatto. Non c'è questa, secondo me, capacità di capire che uno strumento del genere poi non è utile, non serve, anche se lo paghi poco. Bisognerebbe essere onesti con i propri clienti e dire guardate, per avere un'assicurazione seria devi pagare tot. È vero che per te sembrano tanti, ma se ti capita una cosa importante io sono qua e ti copro, non devi più pensarci. Quindi è vero che ti chiedo tanto, ma se succede la cosa, per esempio, facciamo l'esempio dell'incidente macchina, è vero che ti chiedo tanto, ma se ti succede un incidente in auto io poi ti ripago il danno. Quindi questa cosa dovrebbe succedere anche negli animali e nelle assicurazioni sanitarie. Il concetto di far pagare poco un'assicurazione sanitaria non ha senso perché se uno fa due calcoli, se tu paghi poco, non puoi coprire certe spese e allora te la giochi sulle esclusioni, ma giocandotelo sulle esclusioni diventa uno strumento inutile. Quindi io che sono un sostenitore di questo strumento sono molto deluso perché io vorrei poter aiutare al meglio il paziente, il proprietario e sapere che il proprietario non ha quella problematica economica che chiaramente magari una certa situazione gli porta a dover spendere una certa cifra perché gli esami, la risonanza magnetica, l'intervento chirurgico, la radioterapia, la chemioterapia hanno comunque dei costi che noi dobbiamo sostenere. Quando parliamo di risonanza magnetica ragioniamo che la risonanza magnetica viene acquistata dal titolare, quindi non è che viene regalata dallo Stato per capirci. Quindi c'è tutto un concetto di costi della medicina che ovviamente noi che viviamo in Italia non sentiamo perché abbiamo la sanità pubblica e quindi la sanità pubblica veterinaria si occupa fondamentalmente o si dovrebbe occupare fondamentalmente degli animali, chiaramente randagi, ma non riesce chiaramente a coprire la sanità pubblica dei proprietari. Quella è solo politica, non riescono a coprire quella degli esseri umani quando vi dicono che fanno gli ospedali gratuiti non credetici, è politica perché nel momento in cui io vedrò effettivamente un ospedale veterinario pubblico funzionare come un ospedale veterinario privato tanto di cappello ma non riusciranno mai perché i costi sono troppo elevati e non possono permettersi questo tipo di spesa attualmente e quindi è solo politica. Al massimo fanno le prestazioni base che significa semplicemente delle prestazioni che poi non vi curano l'animale. Purtroppo è brutto dirlo ma è fantapolitica pensare alla medicina veterinaria pubblica attualmente. Sarebbe molto bello, io sono un veterinario privato ma se lo Stato mi pagasse il mio stipendio e si comprasse lui tutte le attrezzature e mi dà il mio stipendio e le attrezzature tutte se le paga lui io sarei più contento. Nel momento in cui io devo pagare le attrezzature medicinali, monouso, pagare i dipendenti, pagare tutte queste persone, chiaramente, pagare le tasse, pagare tutto, chiaramente i costi esistono e ci sono. Quindi fondamentalmente questo video è un ma perché io sono un sostenitore di queste assicurazioni ma le assicurazioni, le compagnie assicurative devono darsi una svegliata altrimenti diventa veramente uno strumento inutile e io onestamente non vedo una medicina veterinaria senza uno strumento assicurativo, non lo vedo perché fondamentalmente è molto complessa che questa cosa possa avvenire. La medicina veterinaria sta raggiungendo degli standard elevati, i proprietari richiedono questi standard elevati e quindi fondamentalmente c'è la necessità di avere degli strumenti in cui il proprietario se si alza la mattina e trova il cane paralizzato e quindi deve magari fare una visita neurologica o d'urgenza, una risonanza, abbia uno strumento che lo copra e che non debba essere lì in ansia a dire oddio adesso cosa devo fare economicamente non riesco a sostenere determinate spese perché questa è la situazione che noi abbiamo oggi ma se si crea uno strumento assicurativo lo si crea proprio per tamponare quelle situazioni. Spero che questo video vi sia spiaciuto e se lo vede qualcuno che si occupa di assicurazioni mi raccomando bisogna creare uno strumento anche costoso, anche che abbia un costo importante ma che sia uno strumento utile altrimenti diventa uno strumento poco costoso e inutile o addirittura mediamente costoso ma totalmente inutile e questo secondo me è un po' un fallimento e io che sono un sostenitore ne rimarrei profondamente deluso. Un saluto a tutti e alla prossima! Grazie a tutti!